Questo ragazzi finalmente è uscito il primo film di Poppy Playtime, buona visione. Cioè io sono Ghiwaghi e sono venuto fino alla città a cinque ore fa, però ora ritorniamo indietro. Cioè io sono Ghiwaghi e questa è la fabbrica mia ragazzi. Io veramente non so cosa fare in questa fabbrica. Il player si è andato per sfortuna, alcune volte grida. Cioè quando sono buono grida lo stesso. Ma poi ho l'ho careccio che capisce che io sono buono. C'è un portale, vediamo cosa c'è. Sono nella città delle player dentro la sostanza. Oh cavolo. Ehi chi è? Chi è? Potrò dirlo? Perché lo spero. Bau? Oh mio Dio. Cavolo dove è il medigiorno? Come faccio? Ciao. Ghiwaghi. Ma tu cosa ti fai qui? Rimari lì? Ma come ti fai qui? Sei lì nella fabbrica? Ho trovato un portale e avevo visto che c'erano delle case e pensavo che era un'altra fabbrica. Dei giocattoli dove conoscevo altri personaggi. Non pensavo che arrivavo da te. Ascolta, cosa vuoi fare? Cioè, giochiamo insieme? Non è che non voglio dire perché c'è una cosa che devo dire. Cosa? Chi si missi la conosce? Non conosco nessuna chi si missi. Io la devo ancora conoscere. Cioè, volevo dire che io la conosco. È una mia copia, una femmina e rosa. È rosa. Non ho la minima idea di chi è. Conosco solo te e Poppy. Allora, non hai visto il trailer del capitolo 2 di Poppy Playtime. Capitolo 2. Ascolta, io non ho niente da fare. Però decidi di sì. Ok, questa chi si missi. C'è un altro personaggio. Io, prima di adesso, so che c'è ancora questa chi si missi. Ma c'è una mamma che non conosco. Perché se niente c'è una mamma che non conosci. Sì, è molto strana e più cattiva di me. Però, lei è molto più cattiva e non va bene. Quindi, che ti dobbiamo? Non lo so. Dovremmo vedere chi sarà questa chi si missi. E questa tua mamma. Ma che non so nemmeno che mamma è della tua. Perché non è possibile. Io non lo so veramente. Play, eh. Io non lo so. E come non lo so? Non è possibile. Hai una mamma. E la mamma tu la conoscerei. Ascolta, non vi più ha a che fare con questa storia. Facciamo stare. Cerchiamo a dormire se no. Va bene. Buonanotte, Aghi. Buonanotte. Ma cinque ore fa. Ho sentito uno strano rumore. Che cos'era? Cos'è quel coso? Dove era questo? Io ricordo che... che il player aveva un fratello. E' proprio lui, quello rosso. Che mi sto cercando per combattere. Vabbè, lo stupido è questo. Sono qui, stupido questo. Ehi, che cosa ti serve qui, Aghi, Aghi? Sì, lo sai che ti dico? Io stavo cercando il player. Quello giallo. Allora lo sai cosa fare? Combattere. Come un altro pouredono. Come on- Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Ma che cosa? Ma mio fratello che sta facendo? Oh no no no, non sembri Vai a fare scale Mi lasciano stare Oh wow wow Ehi, fratello Ma che si faccio? Come si faccio? Questo qui mi sta prendendo pugni Fermo Non farlo Ma tu sei pazzo Tu sei pazzo Vedi che io ho una forza che ti può spingere Se va bene E ti spingo Come ti sei permesso Vieni qui Mi ha colpito nello schieno Mi ha colpito nello schieno Aio Faccio il sangue Ci vediamo da poco Stupi Lei aveva fatto il tempo Ehm Lei aveva fatto il tempo Sì, sto bene Sto bene Non me lo ricordavo così Mi ha colpito Non me lo ricordavo così Questa città mi sa che devo cambiare Dove andare a Palermo Se non a Roma Roma è pericolosa Potevi stare Ma è pericolosa E tu vai in città Ma Più te sei pericoloso in città Più ti ricercano Perché tutti dicono che sei cattivo Più allora ti fanno male Sì ma io ti devo salvare Non ho capito ma Non puoi venire qui Quindi Mi ha detto che dopo ci dovremmo rivedere Per un combattimento Lui sarà con la sua auto Gigante che vola Andare? O dopo? Secondo me No Va bene Oh mio Dio Che sono Che non farei per me questa cosa Ehm Così ti ho detto Ecco Cioè io dovrò cogliere lì dietro Cosa posso muore? Sià! Però puff! No! Ok State qui tutti E ora E' il momento Allora diciamo si Andiamo per strada Io ti seguo dietro Mandatine Ti porterò dove saranno loro Ti farò cadere Ok? Ciò! Ah! Ce l'ho dietro Salto salto Incredibile! Capriola Stolito Di Tampugno Scappa 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 Non cầniamo perchè questa macchina meravigliante è pericolissimo vieni qui che ti prendo siamo nelle montagne russe no, voglio dire, siamo nella montagna mi prendi questo anello di proprio playtime dove c'erano loro ora ti spingo ora ti spingo con questo ora ti spingo con i colpi della macchina mi ha spinto quindi dovrebbe arrivare l'ho spinto sono nella modalità cattiva vieni qui ti do un colpo fortissimo nel mondo ora ti porto nel mondo ora ti porto a Palermo pugno speciale amico ce l'abbiamo fatta vuoi andare a casa? si io sono chissimissi devo andare a dargli guagli subito andiamo prendo il jetpack e volo e ci vado tic Ticca 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 ticca